Nel 264 a.C. Roma, accettando la richiesta di aiuto di Messina contro Cartagine, scatenò la prima guerra punica che si svolse sostanzialmente nelle acque che circondano la Sicilia. Sul mare i cartaginesi non avevano mai subito sconfitte, ma nel 260 a.C. la flotta romana riuscì a ottenere un'importante vittoria a Capo Milazzo. Fallito il tentativo di attaccare i cartaginesi in patria, i romani riuscirono a imporsi nel conflitto con una seconda battaglia navale presso le isole Egadi nel 241 a.C. Roma impose a Cartagine dure condizioni di pace, tra cui l'accessione della Sicilia, che nel 241 a.C. divenne la prima provincia romana della Sardegna e della Corsica nel 237 a.C.